I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agropoli, in esecuzione all'ordenanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, ha tratto in arresto GE classe 1953, indagato nell'ambito dell'indagine riguardante la truffa del CD bene emissione. Ecco il modus operandi collaudato. Contattavano i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati sui siti internet, si recavano all'appuntamento muniti di assegno circolare falso e recatisi in banca per l'incasso, facevano contattare l'istituto di credito emittente per verificarne la genuinità. A questo punto la chiamata in entrata sulla linea telefonica dell'istituto bancario veniva intercettata e deviata su altra utenza, da cui rispondeva un complice che, presentandosi falsamente quale dipendente della banca, confermava telefonicamente la concruità dei titoli di credito falsamente emessi. Svariati a segno dall'importo di 7.000 a 75.000 euro, venivano utilizzati per la compravendita di autovetture, imbarcazioni, orologi di valore, il più delle volte pubblicizzati sui siti di compravendita, che venivano così sottratti alle vittime, inconsce dell'accaduto. Al passaggio di proprietà si presentavano con documenti falsi, così da intestare il bene a persone inesistenti per poi darsi alla fuga senza lasciare alcun elemento. Il ruolo dell'indagato, ex dipendente telecom SPA, era quello di individuare le cabine di derivazione relative alle linee telefoniche delle banche falsamente emittenti i titoli di credito e di installarvi un'apparecchiatura sofisticata finalizzata alla captazione e deviazione delle chiamate in entrata. L'indagine condotta dal nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Agropoli ha riguardato complessivamente 14 episodi accaduti in Vigonza, Brindisi, Sperlonga, Rubiera, Montegiorgio, Fabriano, Reggio Emilia, Stra, Angera, Bitonto, Rovigo, Verona, Langhirano, relativi a truffe perfezionate con assegni circolari falsi, apparentemente emessi da istituti di credito dell'intero territorio cilentano, Agropoli, Castellabate e Matinella, per un valore complessivo di circa 500 mila euro. Nel corso delle indagini è stato possibile acquisire i filmati della truppe televisiva della trasmissione Le Iene, che aveva realizzato un servizio andato in onda il 24 novembre 2019 sulle truffe dei Rolex.